Mentre le finanze del comune di Messina gridano con tutte le forze e le energie di dover bloccare tutte le attività produttive della città, il cuore pulsante dell'economia del territorio potrebbe essere il porto poloritano. Alvia oggi il progetto di promozione turistica Princess Cruises con la convenzione tra Palazzo Zanche e città metropolitana. Gli assessorati allo sviluppo economico e alla cultura sposano l'autorità portuale, Camera di Commercio e Confesercenti. Da questa mattina a settembre si attendono al porto navi da crociere imponenti da oltre 3500 turisti come la Royal Princess e la Carnival. Grazie al coordinamento accoglienza croceristi si potrà assistere a eventi a loro dedicati con gruppi folclorici e carrettini siciliani addobbati in modo molto ricco, nuove escursioni, guide e cartine della città, degustazioni e vendite di prodotti tipici enogastronomici con sconti rilevanti via posta, cooperative marketing e public relations. Dopo un anno di duro lavoro con l'ufficio di coordinamento insieme all'autorità portuale, comune di Messina, Messina Tourist Bureau, città metropolitana e finalmente siamo arrivati all'evento, l'evento del primo evento di accoglienza di questo bellissimo programma che abbiamo stilato in tutto questo periodo grazie alla collaborazione veramente delle aziende, della Confesercenti, di tutti ma veramente di tutti. Oggi ci sarà il primo evento di accoglienza per questa stupenda nave che ci ha incluso con la sua compagnia in questo progetto di propaganda dei porti del Mediterraneo. Gli spazi sono normalmente in affitto, il terminalista fa commercio, non regala le bamboline. Dopo tante trattative per fortuna siamo riusciti con l'aiuto di tutti sempre a far comprendere che il punto informativo fosse la base da cui ti dovesse partire tutte le azioni di propaganda e di accoglienza sul territorio. Prima aveva un costo di 12 mila euro. Le location diciamo qua all'interno sono più o meno mille euro al mese, questi erano i dati che ci arrivavano. Oggi per fortuna siamo riusciti ad abbattere tutto questo e a far comprendere la reale e il reale utilizzo di queste aree.